La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della sua autonomia sulle funzioni elettorali che riguardano gli enti locali, ha fissato le date delle prossime consultazioni amministrative, il 5 giugno per il primo turno e il 19 giugno per i ballottaggi. La decisione è stata assunta oggi dalla Giunta regionale che, con delibera proposta dall'assessore alle autonomie locali Paolo Panontin, ha stabilito le giornate dedicate al voto per il rinnovo di 29 amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, di cui 4, che superando la soglia dei 15.000 abitanti, sono chiamate ad un eventuale secondo turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco, tra cui Cordenons, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Trieste. In tutto un corpo elettorale che comprende 360.000 cittadini della Regione. Come stabilito dalla normativa regionale, le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22. Diversificata, caso per caso, invece, la situazione delle fusioni fra comuni che dovranno essere sottoposte alla volontà dei cittadini attraverso il quesito referendario. Nei casi che coinvolgono la fusione fra Monfalcone, Staranzano e Ronchi dei Legionari e quella di Codroipo con Camino al Tagliamento, trattandosi di amministrazione in scadenza di mandato nel 2016, la Giunta ha deciso che il referendum si trà il 19 giugno. In tale contesto le elezioni comunali, qualora vincesse il sì, verrebbero rimandate al 2017, in caso contrario sarebbero fissate a fine 2016.